La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 21 anni e mezzo di carcere a Don Paolo Piccoli, sacerdote di Verona ma incardinato nella diocesi dell'Aquila, accusato di aver strangolato nel 2014 un anziano prete, Don Giuseppe Rocco, che viveva con lui in seminario a Trieste. Un annullamento con rinvio, ci sarà un nuovo processo, non più a Trieste ma nella Corte d'Appello di Venezia. Le motivazioni sono importanti perché in sostanza rimettono in discussione l'utilizzabilità delle consulenze tecniche che nei primi due processi portarono alla condanna di Don Paolo a difendere il sacerdote illegale aquilano Vincenzo Calderoni, un successo molto importante per l'avvocato aquilano in un caso che è stato trattato anche da trasmissioni televisive nazionali nel corso di questi anni. La Cassazione ha annullato una sentenza cosiddetta doppia conforme perché era stato condannato sia in primo che in secondo grado e tanto in primo che in secondo grado noi avevamo proposto di ascoltare i nostri consulenti che erano arrivati a delle conclusioni diverse rispetto ai consulenti nominati prima dal PM e poi dalla Corte. Nonostante noi avessimo insistito nel corso di entrambi i due processi perché venissero sentiti i nostri testimoni, non sono stati sentiti. Chiedevamo questo in applicazione di un principio della Corte Europea di Giustizia, il cosiddetto principio delle armi pari, articolo 6 della convenzione, in virtù del quale non è possibile spuntare le armi della difesa o perlomeno bisogna consentire la difesa di lavorare ad armi pari e di dare nell'ambito del processo lo stesso tipo di apporto che ha dato l'accusa. Questo non ci è stato concesso. La Cassazione, dopo la proposizione del nostro ricorso, ha accolto questo principio. Un giudice autorevolissimo perché è il giudice che si occupa normalmente di omicidi e dei processi più importanti, quello specializzato in omicidi, ha accolto in maniera piena questo nostro ricorso e quindi di conseguenza ha annullato la sentenza. Che significa? Significa che dovremo andare di nuovo di fronte ad una Corte d'Assise d'Appello che sarà diversa da quella di Trieste perché l'Appello di Trieste non ha più sezioni e quindi dovremo andare in un'altra sede specificamente a Venezia e a Venezia discuteremo, verranno ascoltati i nostri consulenti e poi la Corte d'Assise d'Appello di Venezia giudicherà anche sulla scorta di quello che i nostri consulenti diranno. Il sacerdote accusato di aver ucciso il prete per rubare una catenina in questi anni ha sempre respinto ogni accusa. Il processo è stato seguito anche all'Aquila dove Don Paolo è stato diversi anni ed è molto conosciuto. Se la Cassazione non avesse preso questa decisione per Don Paolo ieri si sarebbero spalancate le porte del carcere.